ingredienti dosi per quattro persone 300 grammi di spinaci surgelati 350 grammi di latte 100 grammi di semolino burro grana grattugiato un uovo olio due spicchi d'aglio 350 grammi di passato di pomodoro basilico e sale preparazione lessare gli spinaci passarli in padella con un po di burro e uno spicchio d'aglio e tritarli bollire il latte salare versarvi il semolino e cuocere per 12 minuti togliere dal fuoco unire gli spinaci l'uovo e due grosse manciate di formaggio formare delle palline rosolare l'aglio con l'olio unire il pomodoro il basilico tritato e cuocere per 10 minuti lessare gli gnocchetti condirli con il sugo con grana a piacere e servire il piatto è pronto buon appetito